Stop al dumping contrattuale, ossia ai contratti a ribasso, riduzione del numero degli accordi nazionali esistenti, introduzioni dell'indenità di professionalizzazione riconoscendo al lavoratore le competenze acquisite. Sono le proposte della Confsal, la Confederazione dei Sindacati Autonomi, per rilanciare occupazione e crescita economica. In tema di rappresentanza la Confsal propone l'istituzione di un'agenzia indipendente per la raccolta delle deleghe sindacali.